Presidente Beci, il dragaggio non è ancora partito, perché? Credo abbia i soliti problemi che oggi ci sono nel nostro Paese, per quanto devo dire la Regione e il Comune si siano dati da fare rapidamente, anche lo stesso profeditorato ha trovato i fondi. Il nostro punto di arrivo debba essere il piano regolatore portuale e so che il Presidente D'Alfonso si sta dando molto da fare perché noi sappiamo che i costi di dragaggio sono alti, è un lavoro quello della manutenzione che noi avremo sempre per la tipologia del nostro porto, però bisogna assolutamente alleggerire l'impatto del costo della manutenzione mettendo a mano l'infrastruttura, per cui so che adesso a marzo, mi ha detto il Comandante Moretti, dovrebbe esserci l'ultimo passaggio sul nuovo piano regolatore portuale. Io vedo quello come punto di arrivo per risolvere, non tanto definitivamente, ma sicuramente per abbattere il costo della manutenzione che nei porti dell'Adriatico purtroppo crea questi problemi ed è alto proprio per la legge che norma questo tipo di attività. Presidente, questione SNAV, il Comune chiede a gran voce il ritorno del collegamento con Spalato. Il problema SNAV è un problema, diciamocelo francamente, anche di mercato, nel senso che il mezzo che l'anno scorso era qui di stanza, nel porto di Pescara, il Croazia Jet, oggi è dall'altra parte del mondo, in Venezuela, il Comandante Aiello ce l'ha detto, purtroppo una società venezuelana ha noleggiato questo mezzo per tutto l'anno, per cui lei comprende bene che sono scelti aziendali che SNAV è nella piena libertà di farlo. Per il prossimo anno sicuramente avremo delle notizie, sono certo, migliori su quello che sarà il futuro del nostro porto e quindi potremo intavolare con SNAV una trattativa più a lungo periodo.